quando si pensa ragazzi all'idea del totalitarismo secondo me bisognerebbe effettivamente ricordarsi che l'idea del totalitarismo non può che essere legata all'idea del linearità del tempo cioè effettivamente per quanto le democrazie antiche per esempio fossero limitate cioè ragazzi le democrazie antiche erano limitate c'erano gli schiavi le donne non potevano partecipare se volevi essere cittadino c'erano delle condizioni importanti soprattutto pensiamo anche alla riforma di Pericle cioè quella tale per cui tu dovevi essere figlio di un uomo atteniese di un cittadino atteniese e dove avere una mamma figlia di un uomo atteniese però e poi cioè se non eri aristocratico in fin dei conti che non potevi chiedere più di tanto questo è un punto però la differenza con effettivamente l'età moderna e poi in realtà quello che poi ha portato ai totalitarismi nel novecento è che propriamente nell'antichità c'era un'idea circolare del tempo non lineare ora se noi pensiamo in realtà alle strutture filosofiche lasciamo perdere i totalitarismi nel novecento ma se noi pensiamo alle strutture filosofiche che per alcuni versi hanno anticipato poi anche i totalitarismi noi pensiamo appunto al fatto che hanno bisogno di una linearità del tempo cioè hanno bisogno del compimento di qualcosa in un dato tempo specifico ecco perché per esempio la filosofia di Hegel è molto criticata da Pop e io per esempio non sono d'accordo quando Popper critica Platone cioè quando per esempio Popper ragazzi critica Platone lui dice e Platone crea una società chiusa di tripartizione dell'anima dove poi a un certo punto tutti sono costretti nel loro nella loro situazione cioè se tu hai l'anima d'argento sei guerriero punto se tu hai l'anima d'oro sei filosofo punto se tu invece hai l'anima di bronzo di ferro tu sei produttore punto però in Platone attenzione c'è comunque questa idea classica della circolarità tale per cui in verità tu sei lì anche come inclinazione intesa come come tu ti meriti quella roba lì in senso tu sei già improntato perché te lo dico io perché sei bravo a farlo in Platone non c'è un'idea finalistica di giungere a uno spirito della storia a uno spirito dello stato perché in Platone c'è un'idea individuale dell'individuo che in realtà deve mantenersi sulla base effettivamente della sua condizione anche genetica se vogliamo e poi della sua messa in gioco successiva cioè vediamo se effettivamente l'anima d'argento tu riesci effettivamente a metterla bene in gioco vediamo se l'anima d'oro riesce a metterla davvero in gioco in Platone c'è un'idea estremamente individuale dell'attenzione sull'anima intesa come partecipazione e presa di posizione all'interno della comunità Hegel in questo senso non fa la stessa cosa cioè in Hegel per esempio c'è un'idea di spirito della storia che comunque deve essere inglobato a un certo punto all'interno dello stato cioè se ci pensate le idee totalitarie anche di chi effettivamente non avrebbe mai voluto i totalitarismi nel novecento ci mancherebbe altro ma il punto è proprio questo cioè le idee totalitarie che nascono con l'età moderna si improntano in verità a un fatto specifico cioè a un fatto di intendere lo stato come compimento di una data cosa e la filosofia come compimento di una data cosa questo è e in verità se ci pensiamo chi è che sono i teorizza chi è che teorizza effettivamente per esempio la morale di stato Hegel e Kelsen cioè in Hegel attenzione c'è un'idea molto specifica di storia come linearità della storia tale per cui si deve arrivare allo stato cioè Hegel non aveva la concezione antica di pensare effettivamente alla ciclicità del tempo questo è importante cioè gli antichi avevano paura del cambiamento avevano paura delle divinità avevano paura che determinate cose che mutassero in un certo modo potessero abbattere il sistema vigente e quindi bisognava certo creare un'isonomia che poi si è arrivati anche alla democrazia con i suoi limiti ma per mantenere la struttura così come fosse quando gli antichi greci effettivamente ostracizzavano le persone mandandole via non era tanto una paura per un possibile totalitarismo che i greci non concepivano per la ciclicità del tempo e per il fattore divinità e teologia politica con le divinità ma era effettivamente una paura di mutare le cose che l'isonomia aveva portato così il passaggio all'interno dell'antica grecia è un passaggio che per quanto limitato era sempre meditato questo è importantissimo da considerare perché se no non si capisce ciò che c'era prima e ciò che c'era dopo cioè gli antichi greci ragionavano sempre in uno stato di decadenza rinnovamento decadenza rinnovamento che se non accompagnato effettivamente poteva davvero essere un pericolo ma in verità questo tipo di struttura era ciclica cioè si rinnovava completamente ogni volta le divinità erano impattanti con la situazione invece di stampo lineare quindi con la struttura di stampo lineare a un certo punto la filosofia non ha più dovuto cercare delle risposte come dire per limitare il danno prodotto dal destino dal fatto che l'uomo è comunque sottomesso al divino o cercare di capire come partecipare per costruire una polis adatta al mantenimento della limitazione del cambiamento no con la filosofia di stampo lineare si è concepito poi a un certo punto un rapporto sempre più impattante tra storia che avanza e poi sempre più in particolar modo a partire dalla modernità l'idea di stato nazionale cioè questo è importante da collegare cioè effettivamente quando si pensa all'idea di stato certo si può dire che la polis è uno stato per capirci però il greco sicuramente non aveva interesse e non aveva neanche il significato di capire per lui che la polis sua fosse un compimento esso stesso del potere dello stato perché perché il potere per esempio in realtà democratica di pericolo come ben si spiega è limitato sulla base del fatto che si ha paura di quella cosa lì cioè si ha paura del compimento del potere inteso come volto a una linearità specifica perché non c'era ecco perché si aveva paura per esempio del potere politico e quindi mandavano via sempre qualcuno cioè perché i greci ostracizzavano ostracizzavano perché avevano paura che in verità qualcuno potesse cambiare la dinamica politica a cui si era giunti quello che invece capita con lo stato moderno intesa come filosofia dello stato moderno è che a un certo punto alcuni filosofi dicono beh effettivamente noi abbiamo visto determinati personaggi come egel con napoleone che fanno determinate cose mettono dentro di sé inculcano dentro di sé o meglio è come se inculcassero dentro di sé lo spirito di una nazione guarda cosa hanno fatto ma riteorizziamolo nel senso lineare delle cose quando egel parla di giulio cesare cicerone dice la consuetudine rispetto anche a questa circolarità del tempo è chiara cioè la consuetudine del diritto mi dice che c'è una repubblica e mi dice effettivamente che noi siamo arrivati qui grazie effettivamente al diritto che si è mantenuto giulio cesare è un pericolo attenzione lui non incarna in realtà la verità lui incarna il pericolo già che infatti poi ottaviano cosa che ha fatto sapendo che era il diritto della consuetudine che era la reale forza di roma utilizzato quello per prendere il potere per dichiarare guerra a marco antonio non aveva alcun tipo di idea di incarnare dentro di sé lo spirito della storia perché non esisteva quell'idea di spirito della storia al massimo si aveva l'idea di governare ma governare con le giuste metodologie sulla base poi del diritto a cui egli stesso a un certo punto si è dovuto affidare per non finire da un lato come giulio cesare ma dall'altro come marco antonio quello che invece avviene con la struttura di stato moderno intesa anche alla napoleone filosoficamente approcciata è che per esempio hegel dà ragione a napoleone come dà ragione a giulio cesare nello stesso modo cioè in modo lineare quindi questo modo è come se la filosofia moderna abbia ripreso la filosofia antica dando una linearità della storia come se la filosofia antica non ragionasse più da antica quindi non ragionasse più con il le categorie di stampo antico come se giulio cesare in verità ragionasse in modo lineare del tempo e si dasse una sua filosofia specifica come se il diritto romano a un certo punto non ci fosse più ma fosse relegato a un'idea evidentemente di stato lineare del tempo e di compimento dello stato come se ottavano in verità non avesse capito che era un peso il senato aveva un peso il senato aveva un peso effettivamente la consuetudine romana aveva un peso la pretesa del diritto è come se perché quando hegel sottomette il diritto allo stato è questo che fa cioè lui ti dice lo stato più importanza del diritto perché è lo stato che crea il diritto e no direbbe cicerone è il diritto che crea lo stato siamo due robe diverse qui e infatti la ciclicità dello stato intesa da anche per esempio il classico è fondamentalmente una ciclicità denotata dalla circostanza dell'azione del diritto che si ripete sulla base degli avvenimenti storici e che attenzione non può avere un passaggio immediato dalla repubblica all'impero perché se no così mi destrutturi il diritto stesso che si basa attenzione non già su un improvviso cambiamento ecco perché il romano è vicino al greco perché hanno paura del cambiamento improvviso ed è lo stesso motivo per cui ottaviano augusto per esempio quando ha dovuto fare un passaggio dalla repubblica all'impero ha dovuto porre attenzione alla disamina del diritto ecco da questo punto di vista è chiaro che quindi la struttura totalitaria di Hegel è chiaro che è totalitaria perché mi distruttura il rapporto ciclicità linearità consuetudine e stato che sono in questo senso due dinamiche diverse noi possiamo naturalmente ripeto ragazzi parlare di stato inteso come polis va benissimo però bisogna capire il modo in cui un antico pensava il modo in cui il moderno pensava quindi per esempio quando Hegel parla nelle lezioni di filosofia della storia di Cesare e me lo paragona a Napoleone in verità avevano due mentalità diverse per il periodo storico in cui vivevano per quanto effettivamente volessero entrammi acquisire il potere certo che entrambi volevano acquisirlo ma con modalità diverse perché avevano modi di pensare diversi considerando che poi uno viveva appunto nel periodo per rivoluzione francese e uno viveva nel periodo appunto della repubblica romana nel pieno della repubblica romana dove esisteva un diritto romano ben consolidato ormai su due cose diverse e questo tra l'altro ce la dice lunga sul tema poi anche della particolarità storica cioè l'idea totalitaria filosofica nasce come se non ci fosse tanto una particolarizzazione storica ma come se questa particolarizzazione debba essere già adattata a un fine specifico inteso come fine per esempio dello Stato come si vede in Hegel dove tutto deve tendere lì come si intravede quindi anche nell'idealismo effettivamente giuridico tale per cui l'idealismo sta nell'idea che si compie in fine questa cosa gli antichi greci per esempio non è che ce l'avessero così come non ce l'avevano per esempio anzi gli antichi greci avevano paura che l'idea definitiva si compisse in fine inteso come mutamento del delle cose in sé perché perché se se si compiva in fine c'era il pericolo che poi a un certo punto le divinità abbattessero la struttura vigente che in realtà era stata costruita con determinate strutture e impegno questo è importante da considerare ed è lo stesso motivo per cui a un certo punto lo stesso Kelsen ha la pretesa di togliere la morale dal diritto cioè questo gli antichi a Roma a Cicerone come fai a farlo con Cicerone non puoi togliere la morale dal diritto Cicerone sarebbe come fai a togliere la morale dal diritto il dovere del buon romano dal diritto ma se il diritto si basa sulla morale se la consuetudine si basa su tutto questo come fai a togliere il diritto come fai a togliere la morale dal diritto questa spogliazione non è già storica come quella presunta e voluta da Hegel nella sua idea totalitaria ma si sviluppa per esempio sull'idea che l'uomo non abbia una circostanza a cui doversi comunque a cui entra con cui entrare a patti con il suo periodo storico anche di riferimento e con quello che appunto si vede ecco dunque che da questo punto di vista per quanto per esempio Hegel e Kelsen siano d'autori molto diversi hanno uno stampo in questo senso anche totalitario di dire che esiste una linearità storica Hegel da questo punto di vista concettualizzando lo Stato Kelsen da questo punto di vista concettualizzando tutto l'intero ambito del diritto come se non avesse storia al diritto ma la storia ce l'ha guarda la differenza per esempio tra un diritto per esempio più di stampo anglosassone inteso anche come common law di stampo più continentale in senso civil law o guarda anche per esempio il diritto inteso più come cultura giuridica dell'antico greco e il diritto giurisprudenziale inteso dall'antico romano sono diritti diversi che si basano anche su culture di stampo comunque diverso simili che e attenzione proprio per questo che si rapportano tra loro noi vediamo quanto i romani comunque debbano entrare in comunicazione anche con la religione gli stessi romani che prendono una religione poi da chi ma dai greci quindi vediamo che la morale comunque è sempre collegata a tutto questo non puoi toglierla ecco quindi che le preoccupazioni totalitari in verità nascono prima ancora e in verità vengono teorizzate prima ancora dei regimi del novecento che per alcuni versi o per molti versi spesso poi sono tutt'altra cosa ma che in verità riprendono diverse concettualizzazioni anche per esempio di Hegel e di Kelsen in un modo specifico quindi come compimento per esempio dello spirito dello Stato o come togliamo bene la morale perché il diritto è solo validità quindi effettivamente dobbiamo sempre non dobbiamo più pensare all'ambito morale come se non ci fosse più consuetudine ma in verità attenzione perché perché effettivamente il diritto a consuetudine per esempio se noi ci pensiamo chi ha ricordato anche la consuetudine del diritto per esempio chi ha ricordato che il diritto si basa su uno specifico tipo di esperienza si è ricordato anche che in realtà il totalitarismo è pericoloso quindi in questo senso per esempio se facciamo riferimenti storici noi ci ricordiamo effettivamente che la stessa è lo stesso common law che si basa sull'Inghilterra poi si è opposto anche al tema di eliminare la consuetudine del diritto perché perché vuoi o non vuoi da questo punto di vista per alcuni versi certo uno potrebbe dire il diritto romano si basa sulla civillo però c'è anche la consuetudine del diritto e alcune volte o ben tante volte Cicerone la proposta a questa consuetudine non solo della legge ma del comportamento e questo tipo di common law è stata ripresa anche dal modello anglosassone il modello anglosassone non ha mai visto il totalitarismo Inghilterra Stati Uniti mai questo ce la dice lunga comunque su voler concettualizzare uno spirito della storia linearmente o effettivamente togliere la morale dal diritto perché evidentemente poi per quanto anche la tradizione continentale per molti versi si distacchi da quella anglosassone ci sono delle cose che tra loro tornano e che vengono riproposte ciao